Le avventure di Gigi, Robo d'acciaio. O a Gigi si è virla. Dichiaro aperto ufficialmente questo consiglio comunale. Tutti presenti? Bene, ecco qua, tutti al mare come al solito. Allora, voglio organizzare una festa bellissima a Piazza Plebiscito. Un Rosetta Day. A Piazza Plebiscito? E' un bloccamento roso. Già la vedo, una festa per i giovani presenterà Pippo Baudo. Miei consiglieri, conoscete giovani proposte? Ma io ho detto giovani, eh? E allora non si ho caldo e gloriano. Ma da quanto tempo che non compri un cd? Eccolo, non ci trova, sindro Gramofro. Io di un cd, Fabrizio, di Anastasia o Anastasia come dite voi. Sono due cd, se vuoi una sola Anastasia parziale. Se vuoi tutte e due Anastasia totale, però, tascite tutto in sala nudo. Vabbè, allora organizzamela tu questa festa. Sì, padrona. Bravo, prendi la metropolitana. A Napoli c'è sempre traffico. Eh! Gigi, a Rostayenne. E io non si sta mangiando i soldi della pensione. E per che cosa? Vuoi cantare. Ollo, che vuoi mi sono? La gelatina, perché stai perso i capelli? Se non ti voglio partecipare al festival di Napoli, voglio cantare. Che è cantare? Vabbè, mamma mia, se tu stai a attendere, se fai, ci vuoi capire? Se non è arrivato da me, ma non c'è mai luato uno sfizio. Se mamma e il padre stanno sempre mangiando i soldi, voglio cantare. E poi sono uno che canta il cuore. Sì, questa canzone, vi restate piace. E chi te l'ha scritto? Gigi, che te l'hai scritto? One, two, three, testo, one, two, three. Monastere Santa Chiara, tengo un cuore scuro scuro. Monastere, monastere, monastere. Monastere Santa Chiara, tengo un cuore scuro scuro. Monastere Santa Chiara, monastere, monastere. Adesso, smettila! Monastere Santa Chiara, tengo un cuore scuro scuro. Monastere Santa Chiara, monastere Santa Chiara. Monastere Santa Chiara, monastere Santa Chiara. È un profilo pavoloso di racchistere. Solo questo, quanto quello fa? Nonno, c'è i rotti timpani. Nonno, quando faccio monastere Santa Chiara, capito. E quando mi chiedo l'obbista, sai che faccio? Cosa? Con una seconda mano. Il problema è che io non sopporto monastere Santa Chiara. E allora? Tramon da luna. Tramon, tramon, tramon. Ma vostro luno c'è già straccio e corte bocone. È fuori al balcone. E allora c'è già straccio e corte le pomme. Sì, ma la prossima puntata. E ora che faccio? Aspetti. Grazie. 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 Grazie.